La piazza ha qualche minuto in più sicuramente, credo che presto potrà giocare, ma adesso non concentriamoci troppo su Marco, capisco le aspettative, ma dobbiamo concentrarci sulla squadra. C'è poco da girarci attorno, ora il popolo viola vuole Marco Piazza in campo. Stefano Pioli lo sapeva da solo, le domande che le sono state rivolte dopo il capo di Napoli non fanno altro che confermarlo. Fin qui al Croato sono stati riservati solo spezzoni di gara considerando che a Genova dovrebbe esserci un minimo di turnover e quanto la piazza reclama il numero 10, la sfida di mercoledì 19 settembre a Marassi pare quella ideale per la sua prima da titolare. Sabato a San Paolo la Fiorentina non ha neppure giocato male, per un'ora alla pari con il Napoli, però non ha mai dato la sensazione di poter far male agli avversari. E' un peccato perché la squadra ha lavorato tanto, ha lavorato tanto, ha corso tanto, si è sacrificato tanto, ha giocato quasi alla pari con un avversario molto forte. E c'erano però delle situazioni dove, è rammarico che ci sono state delle situazioni dove con un po' più di precisione, con un po' più di velocità, potevamo veramente portare a casa il risultato positivo. Quindi il rimpianto c'è. Nonostante il primo K.O. della stagione, la classifica viola resta comunque discreta, con 4 punti in 3 giorni tra Sampdoria e Spal potrebbe tornare nuovamente sontuosa.